Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926 Scusatemi l'ambaratan di macello che c'è qui dentro ma siamo in garage quindi va bene Anzi nel mio laboratorio perché sto facendo dei cancellini per il ristorante Comunque detto questo, come si dice no? E se ne va, la capolista se ne va Più 8 ragazzi, più 8 dopo il pareggio del Milan ieri sera a Cremona Ragazzi mi raccomando iscrivetevi al canale, è gratis quindi forza 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 Signori, ma voi con la Cremonese avete fatto fatica, avete vinto gli ultimi 10 minuti Dissero i tifosi milanisti che tu a Cremona ci hai pareggiato 0-0 Hai perso due punti fondamentali, che è successo? Cosa è successo milanista? Cosa è successo? Ora cosa dirai? Ora cosa dirai? Ora starai zitto? O dirai ancora? Eh ma il Napoli ruba, il Napoli sa solo rubare E noi di qua, noi di là Avete pareggiato 0-0 con una Cremonese che nemmeno aveva tutti i giocatori titolari Gli aveva fatti riposare perché non ne potevano più di fare due partite a settimana Gli ha fatti riposare E voi avete pareggiato con la Cremonese B Addirittura ho visto milanisti dire Eh ma la colpa è di Pioli perché non ha messo i titolari Eh ragazzi, la colpa è di Pioli, sì Ma la colpa è di Pioli Perché si crede di essere un maestro, un mago Di poter rivoluzionare una rosa Per poter vincere agilmente Ma se non c'è Giroud Questi sono i punti che avete preso in più nella passata partita Contro Chievo avevate la scorsa partita Ma non mi ricordo nemmeno che avete vinto 2-1 all'ottantacinquesimo Questi sono quei due punti che avete rubato Avete vinto a culo della scorsa partita Vi sono ritornati indietro Avete visto? È una ruota che gira Come girerà Napoli che farà la prima sconfitta È normale Inevitabilmente il Napoli farà il primo donfo in campionato Ma è normale Quindi io non è che mi vorrei troppo esaltare per questo più 8 Però voglio più 8 Ad una partita che ci porta poi alla sosta del campionato È tanta roba È tantissima roba questo più 8 Rispetto al Milan E poi Violi in conferenza stampa dice Ma sapete Per ora sono più in forma Loro giocano meglio Noi di qua Pioli Ah poi ho detto un'altra volta Quei punti in meno con la partita contro di loro Vedi ora si fanno sentire Hai perso in casa? Muto Zitto Non rompere più i coglioni Non venire a cercare sempre il Napoli Sempre il Napoli Comunque E poi faremo un video a parte Perché poi ci sarà Di sicuro il giorno dopo Perché ci sarà il giorno dopo ragazzi Di questa partita Tosta Perché voglio la partita di ieri è stata una partita tosta per il Napoli E chi dice il contrario secondo me di calcio ne capisce ben poco Perché L'Empoli è stata messa bene in campo dal suo allenatore ieri Il Napoli ha sofferto un pochino questo Questo Come possiamo dire Questo approccio alla partita così dell'Empoli Non se l'aspettava un Empoli così rinunciatario Perché il Napoli ha rifiutato proprio di attaccare Ha rifiutato proprio di attaccare Però il Napoli poi alla lunga ne è venuto fuori Comunque poi Ne riparleremo oggi nel video di oggi E che dire Siamo a più 8 La Juventus se vince è sempre a meno 10 Quindi La Gazzetta incredibilmente ha fatto un articolo di prima pagina Incredibilmente di prima pagina E questo è da segnare sul calendario Perché hanno messo il Napoli in prima pagina Vuoi vedere che questi Ora iniziano a capire veramente che questo Napoli quest'anno è forte Io comunque rimango della mia opinione Come hanno detto i giornalisti Il Napoli è da settimo posto Noi siamo da settimo posto Tutto quello che faremo in più È comunque una vittoria Perché è comunque una vittoria Però ora inizio a vedere Giuventini Interisti Milanisti Romani Laziali Giuventini Che iniziano a dire Cavolo Però tu vuoi vedere che questo quest'anno Veramente Vincono anche con le piccole Vincono anche con le piccole E questo muscolo E vuoi vedere che veramente questi Vincono qualcosa di importante Sentite a me Ma in fondo In fondo Voi state cagando un po' che sotto E questo un po' che sotto E quindi